Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e oggi ci troviamo nell'editor di Gran Turismo Sport ovvero l'editor di livree Io ho creato una livrea molto molto particolare spero di crearne delle altre anzi questa è la mia seconda livrea che creo quindi se qualcuno va sul mio profilo troverà anche un'altra livrea e sto imparando ad operare l'editor di Gran Turismo per creare delle livree uniche come questa per esempio non credo che ci siano altre livree AS Roma in giro quindi ragazzi potete usufruirne chiunque sia romanista può usufruire di questa livrea può scaricarla per la propria Mercedes e anche perché è condivisa quindi potete usarla tranquillamente lo so ragazzi ha qualche piccola imperfezione ho cercato di migliorare il tutto però ci vuole tempo per imparare ad adoperare bene l'editor Rockstar però devo dire che diciamo mi ha riuscito proprio non mi è riuscito proprio un grandissimo lavoro però non è neanche brutto insomma dai c'è qualche piccola imperfezione ma tutto sommato alla fine è gaillarda come si dice insomma anche perché fare il simbolo diciamo lo stemma della Roma è stato abbastanza difficile ragazzi credo di averlo fatto a mestiere anche perché insomma non mi sembra tanto male ragazzi assolutamente no quindi nulla per chi la volesse questa livrea andasse sul mio profilo la trovate lì insieme a un'altra livrea che ho diciamo creato come ho già detto penso di portare un video anche su questa livrea porterò anche qualche gara ovviamente su Gran Turismo qualche torneo se mi iscriverò se farò qualche torneo qualche garetta e la porterò sul canale quindi questo sarà il secondo gioco che porterò sul canale ovviamente porterò anche GTA GTA 5 ovvio e faremo dei progressi insieme su questo gioco ragazzi vedremo un po' di fare dei progressi non credo che ci siano glitch per Gran Turismo Sport però non si può mai sapere quindi siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo quindi nulla ragazzi spero che questa livrea vi piaccia spero che qualche romanista approfitti di questa livrea un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti grazie 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 a tutti